Con l'avvio delle indagini geognostiche per la messa in sicurezza del traforo del sistema idrico del Gran Sasso è molto importante il lavoro che sta portando avanti la Ruzo Reti con i suoi sistemi, le sue procedure e le sinergie collaudate con gli altri enti di controllo. Per le acque scaturite dalla sorgente del Gran Sasso, la Ruzo sta assicurando un monitoraggio H24 attraverso diversi sistemi innovativi. Una sospensione dell'erogazione idrica è avvenuta tra martedì notte e mercoledì mattina, ma in alcune zone la distribuzione dell'acqua è ripresa con ritardi rispetto agli orari comunicati, sollevando però alcune proteste. Nella serata di ieri la società acquedottistica ha sospeso le chiusure notturne delle principali condotte idriche che erano previste per oggi sabato e lunedì. Queste interruzioni erano state pianificate come parte degli interventi di sicurezza sul sistema idrico che serve numerosi comuni del territorio terramano. Purtroppo sapevamo che potevano verificarsi delle piccole problematiche, tuttavia non bisogna dimenticare che questi lavori sono stati fortemente voluti per mettere definitivamente in sicurezza l'acquifero del Gran Sasso. C'è una struttura commissariale del governo e quindi si sta cercando di lavorare nel modo più puntuale possibile. Da parte nostra noi cercheremo di informare tempestivamente la popolazione man mano che le notizie ci vengono pervenute e purtroppo devo dire che non escludo che si possano creare dei disagi. Noi abbiamo sempre un occhio di riguardo nei confronti delle attività produttive e quindi dove possiamo evitare di creare disagi sicuramente lo faremo. Infatti adesso abbiamo sospeso le chiusure che avevamo programmato e proprio in concomitanza con la struttura commissariale e continueremo dopo i disagi che ci sono stati ieri e quindi continueremo a monitorare la situazione. Queste indagini sono essenziali in previsione dei lavori veri e propri di messi in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso che dovranno partire con ogni probabilità in 2025 ma che dureranno almeno un paio d'anni. Molto dipende da questi sondaggi anche il cronoprogramma dei futuri lavori quindi ancora non è stato ufficializzato sostanzialmente però poi per i lavori ci saranno una serie di altre accortezze. Verranno prima costruiti dei potabilizzatori che consentiranno di continuare a erogare l'acqua anche durante i lavori mentre in questo momento la difficoltà sta nel fatto che quando i lavori sono in corso noi a titolo puramente precauzionale per evitare che la terra entri nell'acqua siamo costretti a chiudere l'ingresso dell'acqua all'interno delle reti e quindi a distribuire la popolazione per cui dobbiamo fare uso dell'accumulo che avevamo in precedenza. E' questo che può aver creato disagi. Nella giornata dell'altro ieri abbiamo dovuto chiudere e quindi rimettere nell'ambiente 60.000 metri cubi d'acqua e abbiamo utilizzato le vasche fino a quando è stato possibile poi purtroppo ci sono state delle problematiche. Ma ribadisco faremo di tutto per il futuro per evitare che si verifichino.